14 milioni di euro è la cifra stanziata per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle strade siciliane come risulta dalle pagine della gazzetta ufficiale pubblicata ieri. Dei 12 bandi di gara il quinto riguarda i lavori di recupero e gli interventi strutturali di alcuni tratti delle strade statali 640 e 115 di collegamento tra Agrigento, Caltanissetta e Palermo per i quali lo stanziamento ammonta quasi 2 milioni di euro. Tempi stretti per il completamento degli appalti ma non solo anche obiettivi precisi quelli di riparare strade che da innumerevole tempo non vedono un intervento strutturale. L'ANAS ha infatti deciso di avviare una serie di lavori di risistemazione delle arterie principali. Buone notizie dunque per la 115 e la 640 dove a prescindere dal raddoppiamento del tratto Agrigento Grotta Rossa gli interventi dovranno riguardare ad esempio le infrastrutture e cavalcavia gravemente danneggiati mentre nella strada statale 115 in territorio Licatese verranno bonificate circa il 60% delle aree danneggiate dalle abbondanti piogge e messe in sicurezza le scarpate. Le assicurazioni giungono inoltre dall'ANAS sulla stabilità del viadotto Siculiana 1 oggetto da mesi di preoccupazione da parte di parecchi automobilisti.